Ehi, scusa, ma queste chi sono? Ma come questa? Non lo vedi che è una? È la Kessler. La Kessler? Sì, la famosa ballerina a quattro gambe. Ehi, ragazzi, venite, venite. Ma chi è? Il tenente Colombo? Ma va, questo è il nonno. Ehi, ragazzi, ragazzi, ma chi ha perso i capelli? Ma che cosa dici? Questo è Di Baudo. Sì, ma lui, lui, dov'è? Lui è ovunque. I nonni del quartetto Cetra. Ma quali nonni? Questi sono proprio loro. Cetra, et cetra, et cetra, et cetra. Nessuno, ti giuro, nessuno, nemmeno il destino ci può separare. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Ma che cosa fai? Stai contando i ceci della caralla. Voglio vedere proprio quanti erano. Mi dai una mano? Certo. A quanto sei arrivato? A sei. Allora, sette, otto, no. O, basta! Siete da psicharari! Ancora, sette, otto, no. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.